A Rennar Polo Nord, campanellando va, le streghe porterà a tutti i vinti cuori e dalle armi al mar. I bimbi di qua e giù aspettano quello di cadera con Gesù. A Rennar Polo Nord, campanellando va, le streghe porterà a tutti i vinti cuori e dalle armi al mar. A Rennar Polo Nord, campanellando va, le streghe porterà a tutti i vinti cuori e dalle armi al mar. A Rennar Polo Nord, campanellando va, le streghe porterà a tutti i vinti cuori e dalle armi al mar. A Rennar Polo Nord, campanellando va, le streghe porterà a tutti i vinti cuori e dalle armi al mar. A Rennar Polo Nord, campanellando va, le streghe porterà a tutti i vinti cuori e dalle armi al mar.